Il centrale l'avevo fatto in primavera qualche volta, anche l'anno scorso alla SPA qualche volta l'ho fatto il centrale però sono tutti a tre l'avevo fatto e non a quattro, però comunque diciamo che in passato l'avevo già ricoperto quindi non era un ruolo del tutto nuovo per me, chiaramente non avevo le misure perché due anni, cioè un po' di anni di gioco terzino quindi le misure come potevano avere le aziende di Andrea, di tutto non le avevo, però cercando di rarcizarmi però comunque in passato l'avevo già ricoperto il centrale Massimo Un bilancio di questo tuo mese abbondante di lavoro con Novara, arrivi dalla Lega Pro, mi sembra che ci stai già inserito molto bene in un gruppo di compagni abituati anche a categoria superiore, mi sembra che il tuo ordaggio sia forse bene molto bene Sì, sì, io sono contento di come iniziare la stagione, anche perché comunque sono arrivato qua partendo dietro comunque non partendo sicuramente per giocare, ho avuto la fortuna nella scultura dei miei compagni comunque di poter giocare qualsiasi due partiti di Coppa Italia, mi sono messo a disposizione e comunque sono contento di come è cominciata e speriamo di recuperare gli altri e poi durante l'anno vedremo che spazio uscirò a avere gli altri Grazie Posso? Ciccio? Posso? Ciccio?